Bene questa volta la partenza per la batteria numero 3 delle 9 in programma, ricordiamo chi sta premendo parte, sta gareggiando, Giuliani Matteo, Bercolo Francesco, San Giorgi Achille, Balini, Emanuele, Maschapini, Tommaso e Iacopo Ndicato. Anche questi sei concorrenti stanno gareggiando a tutta velocità nel tentativo ovviamente di rientrare nei più incidenti migliori, ci sono intanto gli avvicinamenti alla testa della gara ma ci vedremo tra breve allo sprint conclusivo, dovremo ricapire meglio come si sono comportati con il loro tempo di riferimento, che risulta essere di 36,85.